In questi giorni non si fa che parlare di abisso, film svedese in vita alla top 10 dei film più visti su Netflix e in questo video cercherò di spiegarvi il finale rispondendo anche alla domanda ma è una storia vera, è tratto da una storia vera, è successo veramente quello che si vede nel film a Chirona in Svezia? Ecco, allora, partiamo dal presupposto che il film parla della storia di una famiglia svedese che deve far fronte ad una serie di terremoti che si stanno verificando in questa città, Chirona e che stanno creando delle voraggi gigantesche all'interno della città che sta letteralmente sprofondando La protagonista è Frigga, cioè il capo della sicurezza di queste miniere che ci sono in città e all'interno delle quali iniziano i primi segnali della catastrofe che sta per coinvolgere l'intera città Lei si sta divorziando dal marito, Taghe e per tutto il film i due cercheranno di trovare il loro figlio Simon e è risultato scomparso Frigga, la protagonista, deve però recarsi prima alle miniere per cercare di capire quello che sta succedendo Sono abituati i cittadini ad avere un'intensa attività sismica Solo che nel frattempo, per la festa di compleanno di Simon, la famiglia organizza una piccola festicciola a sorpresa e in città arriva l'attuale fidanzato di Frigga, Dabir, che si ritrova in una scenetta un po' imbarazzante cioè aveva appena fatto l'amore con la sua compagna e entra l'ex marito, ormai ex marito e li becca praticamente, subito dopo aver consumato il rapporto entra anche la figlia, Maika e tutti insieme provano ad andare nella stanza di Simon per fargli una sorpresa con questa torta solo che non lo trovano e per tutto il film, dicevamo, cercheranno di scoprire dove si è cacciato Nel frattempo cominciamo a vedere che queste voraggini inghiottono delle persone creano sconfiglio in città e Frigga una volta arrivata alla miniera scopre che non c'è più tempo in realtà la città doveva effettivamente spostarsi da un'altra parte casa per casa, edificio per edificio ma non ci sarebbe stato più il tempo proprio perché questi segnali sismici erano aumentati con il passare del tempo Dabir, dicevamo, non aveva idea di quello che lo aspettava una volta arrivato a Chiruna lui voleva dare un anello a Frigga e chiederle di sposarlo e doveva anche accettare un nuovo lavoro nei vigili del fuoco della città solo che quando arriva e succede la catastrofe perché poi di un film catastrofico stiamo parlando e soprattutto quando Taghe, l'ex marito di Frigga, gli rivela che la donna non ha ancora firmato i documenti del divorzio Dabir ci resta un attimo perplesso per tutto il film veniamo depistati sulla scomparsa del figlio di Frigga, Simone a un certo punto all'interno di un ospedale una ragazza le rivela che suo figlio stava giocando a Call of Duty all'interno di un liceo quindi tutta la famiglia va a cercarlo all'interno di questa scuola e per fortuna lo ritrovano ancora vivo è in questo frangente che avviene un punto di rottura nel film perché per salvarlo Frigga si ferisce a una gamba e Taghe si deve sacrificare per portare in salvo la sua famiglia ed è prima di morire che dice a Dabir prenditi cura dei miei figli e gli dai il suo benestare per il futuro matrimonio fra Dabir e Frigga i sopravvissuti riescono a salvarsi e nel finale ci sono queste ambulanze insomma che curano le ferite di Frigga e si vede Dabir che guarda pensieroso l'anello che aveva in mano e che dall'inizio del film voleva dare a Frigga per chiederle di sposarlo gli sguardi dei due si incrociano ed è proprio qui che possiamo capire che rimarranno insieme anche dopo la catastrofe che c'è stata e la nuova vita che li attende a Nuova Kiruna cioè dove doveva essere spostata la città casa per casa anche perché era stato proprio Taghe a chiedere a Dabir prenditi cura dei miei figli e quindi sottinteso della mia famiglia quindi i due è chiaro che rimarranno insieme anche dopo il finale del film ma è una storia vera quella che ci viene raccontata nell'abisso in parte perché nel 2020 dovete sapere che ci sono stati davvero dei terremoti che hanno messo in pericolo soprattutto gli edifici della città e della miniera ed è da quel momento che si è deciso di spostare piano piano la città in un'altra zona perché è da troppo tempo che ci sono questi fenomeni sismici che potrebbero mettere in pericolo le vite dei cittadini per fortuna nel 2020 dopo questo terremoto non ci furono vittime ma non c'è dubbio che sia stato l'incipit per creare questo disaster movie che sta comunque piacendo alla maggior parte degli utenti su Netflix personalmente mi è piaciuto fino a un certo punto non è male dico anche perché non c'è molto in questo periodo sulle piattaforme e indubbiamente il livello si è abbassato credo che non sia uno dei migliori film che abbia visto in questo periodo però che si fa guardare ma ci fa capire anche quanto Netflix in particolare stia prendendo veramente tutto da qualsiasi paese del mondo e i film più visti non sono più come quelli di una volta come si suol dire anche perché veramente il livello si è abbassato e poi quando c'è un disaster movie è ovvio che le persone siano incuriosite dal vederlo e che piaccia proprio perché questi film catastrofici di sopravvivenza comunque stuzzicano sempre l'appetito dei cinefili fatemi sapere cosa ne pensate voi iscrivetevi al nostro canale YouTube c'è a creazione e attivate la campanellina come al solito per restare aggiornati su tutti i prossimi video che faremo seguiteci su Facebook, Instagram e TikTok dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità sul meraviglioso mondo del cinema e delle serie TV al prossimo video grazie a tutti